Monologato podcast, sessione notturna, siamo sentiti le nuove uscite, bene o male, è diciamo subito la nostra, perché comunque non c'è tutto questo bisogno di elaborare. Partiamo con Vitavera Mixtape, a parte due, quindi gli altri dieci brani, di Tedua, se siete qui sapete benissimo di cosa stiamo parlando. Mi sono soffermato molto sui feat, adesso mi voglio soffermare sui feat perché comunque in generale non c'è tutto questo da dire, ecco diciamo che la cosa che in primis mi viene da dire è un appunto su Massimo Pericolo, si sente che Massimo Pericolo è più fresco di successo rispetto a Tedua, si sente che questa storia del rap la percepisce in maniera più forte. Perché comunque Massimo Pericolo è un bivio, certo col seguito che ha qualunque cosa farà per il pubblico spaccherà perché è così che funziona, però si sente che ancora ci tiene a dire la sua e che ci tiene a dire in un certo modo. Infatti ha ancora quelle frasi ermetiche che comunque colpiscono chi ti toglie qualcosa da offrirti, insomma quell'attitudine. Lui ragazzi è fatto la galera Massimo Pericolo, quando la vivi capisci un sacco di cose, capisci che non ostenti perché la delinquenza non c'è un cazzo di bello, perché ne hai le palle piene a un certo punto. Io sono il primo che ha sempre sannato il mondo criminale dai film alla realtà, mi sono messo anche in mezzo alla merda un sacco di volte, ho giocato con l'ansia, con quell'immaginario, ho visto gente fare carriera, alcuni sono andati a trovarli in carcere, ho dedicato canzoni e tutto quello che ti pare per capire che sta merda è merda, insomma, e che non c'è nulla di bello e lui lo sa perché ha vissuto proprio la redenzione, ha vissuto il carcere, il carcere è brutto, solo quando lo vivi capisci in che merda ti eri inserito. Ecco, anche il mondo della droga, qui oggi il rap, la osanna è il mondo della droga, siamo tutti fenomeni, siamo tutti tossici, raga ma quando ti si accolla un tossico, un cochenomene, che lo riconosci a un chilometro di distanza, non è bello. Facciamo sta, parlando di musica, la differenza con Tedua, che tra l'altro è uscito i primi dieci pezzi e aveva quattro in tendenza, quattro, la sua freschezza non si vede da un po', la freschezza di Tedua l'abbiamo persa da un po', io sono stato tra i primi a proxarlo, sono stato tra i primi ad attaccare chi lo attaccava, diceva andava fuori tempo, tutte ste cazzate, però, cioè, questa esigenza di raccontarsi con una terminologia da finto colto, tra l'altro intellettualmente rimasto all'adolescenza, anche a livello di attitudine, cioè, quando sento questi ragazzini parlare di strada, parlano di un concetto di strada da ragazzini, coltello a farfalla, stare in giro, cioè, nel momento in cui alzi l'asticella, passi dal delinquente al criminale, e, insomma, prendi distanza dal tuo prodotto, stai in guardia, metti da parte l'orgoglio, cioè, meno che non vuoi essere un fuoco di paglia, sparisci la circolazione, insomma, si sente da come parlano questi ragazzi, che c'è un'attitudine da delinquentello, perché? Perché giustamente il salto non lo fai, fai musica, eh, cazzo, grazie a Dio fai musica, e quindi, giustamente, non capisco perché bisogna sempre, poi, fare determinati riferimenti, eccetera, ma mi piace molto, invece, Pachi, grande Pachi, cioè, che comunque parla di suo padre, di quanto il successo è nulla, se lo cerchi per colmare un vuoto, cioè, raga, Pachi ha dato asso, tre re a tutti quanti, e mi è piaciuto molto questo concetto, detto da un ragazzino, quanti anni ci avrà, e già ha capito ciò che conta nella vita, cioè, questo non è un feat da competizione sana, perché, cioè, cazzo, ha spaccato tutto, cioè, anzi, oggi, vabbè, sembra quasi che speri che ti sorclassano nei feat, così tanto la traccia gira di più, tanti tuoi ascoltatori ce l'hai, salgono, cioè, grande Pachi, ha spaccato poche barre sincere, così avvicinato a quel concetto di verità, che per me è necessaria, per me è arte, più ti avvicini alla verità, più è arte, più ti allontani dalla verità, più è un romanzo, se vuoi romanzare puoi farlo, se vuoi raccontare una storia puoi farlo, e fallo bene, ma nell'estrema verità c'è l'estrema finzione, e viceversa, soprattutto, quindi, nell'estrema finzione c'è l'estrema verità, quindi, ecco, c'è un modo di romanzarsi che è giusto, Pachi non ha questo problema perché racconta la verità e la racconta bene, e ti arriva dritto al cuore, e quindi lo ringrazio per aver trasformato quello che stava diventando un ascolto noioso in qualcosa di interessante. Shiva, Shiva, fatico a commentarlo, perché Shiva è proprio figlio dell'effimero, raga, Shiva è un ragazzino che, se vogliamo dire che spacca, possiamo pure dire che spacca, spaccare spacca, non in questo caso, però spaccare spacca, in generale, però io, raga, non mi ricordo una rima di Shiva, neanche una, cioè di tutte le hit commerciali, cioè, che poi spacca, cioè, nel senso, è chiaro, tu vedi questo ragazzo, al tuo metodo Navigorsol, che sta lì, che comunque rappa, in un'epoca in cui il rap, il livello si è abbassato, e quindi dici, cazzo, sto ragazzino spacca, ma se era alto come una persona normale, aveva la faccia di una persona dell'età che c'ha, che avesse 23-24 anni, e rappava ai tempi in cui, quando si parlava di rap, si intendeva Chaos One, Colle del Fomento e compagnia, insomma, spacca, non glielo dicevi, non era pervenuto ai tempi, e invece ad oggi, e va bene così, va benissimo così, però c'è da fare questa sottolineatura. Grave che io non ricordi una rima, grave che sto ragazzo macina soldi su soldi, hit su hit, ma non comunica nulla, cioè, né di testo, né di sottotesto, cioè, un prodotto perfetto, in poche parole, insomma, lo chiamerò per il fit il giorno in cui avrò abbastanza soldi per fare un disco commerciale. Insomma, parlo dei fit, ma non dimentico il fatto che a me questa logica dei fit mi ha rotto il cazzo, perché, cioè, raga, pure Marrakesh, cioè, hai fatto il disco e hai chiamato 12 persone, ma ti sei impazzito, cioè, a status non c'era bisogno di chiamare 12 persone, è infatti un disco di un'altra garatura, poi sei sempre Marrakesh, sei sempre una leggenda, quindi comunque il tuo prodotto è un prodotto di un livello superiore, però, vogliamo fare la differenza tra il disco 9 e status? Sì, c'è 13 fit, grazie al cazzo che fa i platini, amico mio, nell'era di Spotify, nell'era delle playlist, è certo, però, insomma, come si chiama 13 fit? Si chiama insicurezza, che Marrakesh non dovrebbe minimamente avere, però ognuno ha i suoi problemi e va bene anche così, però, ecco, Tedua, vabbè, mixtape, glielo abboniamo a sto discorso dei fit, però io guardo a sto punto, cioè, Jamie Deitz e Madman, per me non sono neanche scesi in campo, non pervenuti, ma che cazzo gli è successo? Non pervenuti? Che hanno fatto? Raga, questi hanno spaccato i palchi, questi hanno... Cioè, Madman, raga, era una delle penne migliori d'Italia, ma che hanno fatto? Io capisco che stai facendo un fit di... te ne frega un cazzo, ma manca a salvare un po' la dignità, ma che è sta roba? Ma che stanno a fare? Meno male Darjen, ma prima di Darjen, volevo dire, che, cioè, a Jamie Deitz e Madman io preferisco Tony F, perché Tony F porta il suo mood, tu sai che cosa ascolti quando ascolti Tony F, è un personaggio da web, è un fenomeno da baraccone il suo personaggio, lui lo sa, ci gioca, ma c'ha quel fare accattivante, quella voce a caparra pupe e a caparra soldi di conseguenza, c'ha quell'immaginario, va bene così, cioè, io so che, capisci, Tony F spende 5k per un cazzo di bassotto e a me va bene così, però... Regà, cioè, poi meno male che ci sta gente come Darjen, il maestro, che rialza il livello già solo con l'entrata, con la sua actitude alza il livello, tra l'altro io mi incazzo con Tedua, non perché non lo stimo, eh no, io mi incazzo perché lo stimo a Tedua, io mi incazzo con Tedua perché Tedua ha avuto una freschezza e ha dimostrato un valore che poi ha smesso di dimostrare, e infatti nel featuring del disco di Darjen, tutto emozionato di stare nel disco del maestro, ha fatto una strofa della Madonna, ha spaccato di brutto quello e il Tedua che mi piace, non questo Tedua qua, aspettando la Divina Commedia, ma lascia fa sta roba a Murubuto che è un professore, lasciala fare a Claver, non ti appropriare di questo immaginario che manco hai fatto la scuola e va benissimo, non sto dicendo che se tu hai 16, 17, 18, 19, 20 anni non puoi parlare di Dante, anzi ci stanno ragazzini di 15 anni che Dante lo sentono più degli uomini di 60 e quindi io non sto dicendo questo, sto solo dicendo ognuno al posto suo, non ci riempiamo la bocca di parole inappropriate, non parliamo di Dante se poi stiamo facendo fuori un mixtape del cazzo, è chiaro? E io, cioè, un Darjen che comunque ti caccia frasi come anche se due universi diversi noi siamo connessi come se avessimo entrambi i sessi, cazzo è attuale questa frase, nel mondo dei trans, dell'autrice di Harry Potter che prima attacca i trans, poi dice, no, ma perché io sarei stata transgender perché sono stata stuprata con Harry Potter e il mio egranger che prendono le distanze, ricordatevi chi siete figli, bastardi, e appena e me gli conviene subito, però capito, cioè, è una tematica attuale quella del cambio di sesso, quella dell'accettare, quindi questa frase c'ha valore, c'ha un grande spessore, racconta, e poi la chiude, no, i tramonti fanno male alla gente, cioè non la chiude, poi continua, però questa frase, se fosse stata la chiusura del brano, avrebbe avuto un'altra caratura, questo è il grande problema del rap, cioè tu devi fare quelle 16 barre, quelle 32 barre, quindi devi dire tanto, invece spesso il non detto vale più del raccontato, vale più di tutto ciò che viene gettato su piazza, ecco, quindi, bella Dargen, sto sentendo anche i tuoi nuovi lavori, mi aspetto sempre di più, insomma, ti ringrazio, quindi io, cioè, quindi, in questo mixtape dobbiamo parlare di feat, unica nota degna, oltre al maestro, Pachi, grazie Pachi, ho già parlato di te, per il resto, per me, siamo su una mediocrità, siamo in un 6 meno, questo mixtape, per quello che mi riguarda, quindi me lo aspetto in tendenza, mi immagino, tutti i featuring, cioè, questo Tedua non si parlerà di altro nelle tendenze, però, io, quello che penso di tutte le tracce, ho parlato di feat, perché comunque non è che posso stare, passare la mia nottata a parlare di Tedua, allora ho potuto parlare di feat, però a Tedua voglio dire delle cose, e, per dirle, non mi metterò a commentare le altre tracce, che per me hanno tutte lo stesso linguaggio, ma voglio parlare del video promozionale, che poi è lo specchio di tutta la sfera di Tedua, un video che non dice nulla di nuovo, ma che esprime senza dubbio dei concetti forti, cioè, cazzo, non c'è bisogno di estremizzare, perché già ciò che racconti è forte, allora, perché questa, questo bisogno di estremizzare il linguaggio, questo cercare di apparire più di quello che si è, cioè, se tu, cioè, se mai Tedua dovesse ascoltare per sbaglio le mie parole, e non lo farà mai, assolutamente, per carità, però, io gli direi che era meglio quando era puramente se stesso, in quanto non sapeva neanche lui cosa stava facendo, aveva meno successo, ma era molto più interessante, raga, cioè, del resto, è il grande problema del confronto col pubblico, che è una vanità che si insedia anche nei più umili, perché Tedua non è arrogante, il problema sta nel fatto che, quando si prende consapevolezza, l'arte perde un po' di verità, per questo i più grandi artisti sono fondamentalmente dei bambini mai cresciuti, ma pieni di genio e talento, un giusto compromesso, se uno riesce a essere consapevole nella vita, e poi riesce a sapersi perdere, a livello artistico, come prima del successo, ma questo è un processo che ci vuole tempo, cioè, l'abbiamo visto fare a fibra, però abbiamo, capito, comunque rimane quell'atteggiamento, e comunque esce fuori una volta ogni tanto, esce fuori un pezzo ogni tot, sono due su venti i pezzi di Tedua che salvo, che mi colpiscono, e io gli auguro a Tedua di raggiungere tutto quello che vuole, ma di smetterla di rappare come se fuggisse da qualcosa, e di iniziare a soffermarsi.